In altre situazioni, nel senso che comunque avevo intenzione di cambiare qualcosa, anche dal punto di vista tattico, però era un po' un'incognita nel senso che ho provato diverse cose in settimana e a metà settimana ho cambiato idea su certe situazioni e poi alla fine è il risultato più efficace in questo modo, è il risultato più efficace anche nella scelta di certi giocatori. Grazie